Colin! Colin! Where is Colin? Ciao! Ciao bello! How are you buddy? Good, good. In inglese per te. Ah come ti piace a te, eh? Uno qualsiasi. Si capisce? Si capisce? Allora, siamo pronti? Si. Tanto. Un po' di cagare, no? Un po' di tensione? Si, un po', un po'. Un po'. A little bit. Si, credo 80. Ah come on. Ok. So now we go up to 4000 meters. Then we get fun. Right? Good. See you in the sky. Yeah! Okay. There we go. Here is a� opini. It's not a 14. But yeah eh look how tall. It's now down here. Then we go up to the next area, Here we go. Here is the new home evil now. Grazie a tutti. 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 Bello, bravo, grande, yeah. Good jump, good jump. Come è andata? Benissimo. Ce la facciamo un altro? Sì, grande, bellissimo. 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 Grazie Antonio. Dammi gli occhialini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.